Oggi siamo qui per ricordare l'incontro, l'incontro di due santi che tutto il mondo conosce, l'incontro tra due persone molto diverse nel loro animo sicuramente, nelle loro attitudini, però accomunate dal desiderio di vivere il Vangelo e uno seguace dell'altro in qualche modo, ma entrambi con una grande personalità, Antonio e Francesco. Durante il capitolo delle Stuoie, che si è svolto esattamente 800 anni fa, era il 30 maggio 1221, Antonio sta seguendo Francesco per la stessa via, ha conosciuto i frati francescani e vuole anche egli vivere allo stesso modo. Onestamente sappiamo molto poco di questo incontro bellissimo, ma anche molto intimo tra Francesco e Antonio. Francesco era famosissimo, Antonio era nessuno che proveniva da un'esperienza difficile, e anche drammatica dopo un naufragio in Sicilia. Pertanto possiamo solamente immaginare che un giovanissimo Antonio si trova nella condizione e nella gioia di poter attingere a piene mani al carisma in questo bel incontro di Assisi. Antonio è proprio un frate, un figlio fratello di San Francesco e anche oggi appunto le due basiliche camminano insieme, quasi con due fari. Una cosa importantissima in questo cammino è che all'origine del cammino, mi riferisco, all'origine del cammino vocazionale e anche del cammino reale di San Antonio, il cammino nel quale lui comincia la vita del Vangelo francescana, all'inizio c'è una comunità, da quella comunità lui parte per l'annuncio del Vangelo e dopo Dio lo porta all'incontro con la fonte di quella comunità, la fonte carismatica, la fonte di ispirazione di quella comunità minoritica di frati giovani e penitenti che è San Francesco. L'esempio di Francesco ed Antonio dobbiamo oggi capire come un'ispirazione per le sfide di oggi. L'ha affragato nel Mediterraneo, l'ha portato in Sicilia e è stato accolto in Italia all'epoca, è stato accolto dai franciscani, è stato accolto dalla gente da qua e sono un bellissimo esempio di come il popolo europeo, l'italiano e anche gli altri possono accogliere. Francesco gli dice quello che vuole dire? È stato un'accoglienza, un gesto di accoglienza quello di Francesco e dei frati nei riguardi di Antonio che però si è rivelato direi un po' così di una profonda ricchezza, cioè l'accoglienza ha generato lì, ha prodotto per i frati ricchezza. Credo che questo è stato vero ieri e possa essere vero anche oggi. L'accoglienza non porta solo problemi ma può riversare su di noi enorme ricchezza. Se ci rimanesse già da quell'incontro questa consapevolezza per l'oggi, vorrebbe dire che avremmo fatto quasi 13 al Totocalcio.